Il Fondo Starter finanzia la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle piccole imprese già esistenti in Emilia-Romagna. Possono partecipare le piccole imprese, singole o associate, attive da non più di 5 anni. Presentando domanda dal 10 settembre 2018 al 12 novembre 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Il Fondo ha ancora a disposizione 4 milioni di euro. L'importo finanziabile va da 20 mila a un massimo di 300 mila euro. Grazie al Fondo Starter, le piccole imprese possono investire nell'innovazione della produzione dei servizi, nello sviluppo organizzativo, nell'ICT. Partecipa anche tu, rivolgiti agli sportelli Unifidi Emilia-Romagna e visita il sito www.fondostarter.unifidi.eu Con l'Emilia-Romagna puoi fare di più! Grazie a tutti!